Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! E lei stia zitto! Signor Winston faccia qualcosa No! Si sposti! Si fermi! Ho detto potete fermare! Mi devi dare i miei 30 dollari! Voglio i miei 30 dollari! Hai capito? Me li devi dare! Me li devi dare, capito? O no! Oh cazzo, di nuovo dal medico! E lo porto io! Andiamo! Porca miseria! Andiamo dallo sheriff! Quoi documenti del piacere? Alexa accendi palloncino! Oh cazzo! Oh cazzo! Oh cazzo! Oh nooo! Oh nooo! Oh no! Oh no! non c'è il cazzo, tu sei messo a ornare come una scimmia, scusami una scimmia? ma se non lo pago, ma vado a tenno per cortesia, ma vado a fangula ma vado a fangula, vado a scimmia, ma vado a fangula ma per cortesia, ma per cortesia, ma con chi stiamo parlando, vai giù ma con chi stiamo parlando, ma per cortesia ma vado a piacere, ecco qua, ecco perchè volevo confronto, perchè volevo fangula, ecco qua ma per cortesia, solo perchè siamo napolitano, ecco qua ecco qua ma io basta, non voglio andare più a giocare nel server mia madre mi bullizza ma allora io non mi lavo è finito ragazzi, l'ho tolto grazie per il bit bello l'ho tolto ragazzi il texano dagli occhi di ghiaccio l'ho tolto i per due grazie Herbicoz, grazie mille per altri 5 saldo per un pelo vada vada, ci provi, ci provi ci provo? ci provi eh no così forte no 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 aiaa 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 buonanotte genna cuore rosso la botta però mi ha messo a posto le orecci aiaa 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 io non volevo andare, mannaccio aiaa 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 mi hanno appena fregato 30 dollari come? eh due tizzi si dispacciavano per lo stalliere porca mi sei già se li becco eh se li becco male eh li porti allo sceriffato se li becca aiaa certamente la saluto di vederci ok 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 adesso li sento eccoci qua allora no 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 mi hanno cacciato loro dal discord mica io loro mi hanno cacciato se ho sbagliato che ti devo dire questo giusto un minutino è lavoro dobbiamo pensare a cosa devo mangiare stasera allora gli mando clip ok Alexa accendi schiuma oh cazzo oh cazzo oh cazzo avanco Grazie a tutti Oh porca puttana Mi si è bagnato il pirulino Che cosa hai sentito male? Oh mi si è bagnato il pirulino Che cosa hai sentito male? Alexa accendi scorreggia vai Ecco una scoreggia per te 30 ha detto? Sì 92 è il numero delle scarpe? Sì 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 Ecco lei Ok perfetto C'è il numero delle scarpe? Oh il cazzo duro Ehi! Oh! Dove raccogna i miei soldi? Pat! Pat! Aiuto! Dami i soldi! Damià! Pat, scappo! Ah! Bastardi Piazza e merda Salve a tutti Salve Ehmir Oh scappa scappa Sembra spararsi AHHHH OH DIO AIA 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 Scusi Questi sparano AIA 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 Alexa accendi palloncino AIA AIA Alno AIA 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 Guau Grazie.